Vi aspettiamo in galleria sabato 18 febbraio, dalle 18 in poi, per festeggiare insieme il Carnevale. Ci troverete mascherati, e se vi va, mascheratevi anche voi. Saranno in mostra le opere di Anna Maria Acone, Mario Bencini, Pierangelo Benetollo, Massimo Bernardi, Paola Bradamante, Araldo Camici, Claudio Cantini, Paola Caporilli, Romeo Cellardi, Riccardo Chirici, Claudio Citi, Roberto Consiglieri, Mara Di Campli, Fragio, Cristina Giammaria, Giovanni Graziani, Fiorenzo Isaia, Federico Lischi, Riccardo Lizio, Clelia Logoluso, Paola Magrini, Marco Mancini, Bianca Manis, Vincenzo Marino, Carlotta Pardini, Giuseppe Pierozzi, Luigi Piscopo, Nicola Piscopo, Sonia Pozzobon, Maurizio Pupilli, Giulio Santarsiero, Luca Squarciapino, Cristina Tichitoli, Glenda Tinti, Stefano Urzi. Grazie. Grazie.